pace e bene cari amici bentrovati in questa sesta domenica dopo le beatitudini e la definizione di chi le vive come sale della terra e luce del mondo ci addentriamo nel corpo del discorso della montagna questa è la prossima domenica siamo in quella sezione di testo intitolata di solito le sei antitesi che potremmo anche definire in semplicità i sei approfondimenti o i sei salti di qualità cioè gesù attraverso uno schema di contrapposizione avete inteso che fu detto ma io vi dico ci svela il senso profondo e l'interpretazione autentica della legge di dio cioè ci porta al cuore della sua volontà anzitutto gesù ci dice di non essere venuto ad abolire la legge o i profeti ma a dare compimento questo è interessante gesù sta dicendo io non sono venuto a togliere nulla di tutto ciò che dio ha detto e rivelato nell'antico testamento ma sono venuto a viverlo fino in fondo a portarlo a compimento gesù in se stesso ci mostra qual è il cuore della volontà di dio che è amare che è l'amore che è dono di sé e amare coinvolge tutta la persona mente cuore azioni gesù non soltanto in sé la porta a compimento ma svela anche a noi il senso profondo dei comandamenti e soprattutto ci dà la grazia di poterli vivere ve lo dico proprio in semplicità gesù ci insegna ad amare e gesù ci dà la grazia di amare per questo gesù ci dice che chiunque trasgredirà uno solo di questi precetti anche minimi e insegnerà a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli perché quando si parla di amore quando si parla di far la volontà di dio anche i dettagli sono preziosi di ciò che gesù ci insegna e ci trasmette nulla è banale ma tutto è prezioso per imparare ad amare per salvarci per aiutare persone che lui ci mette accanto anzitutto gesù ci dice se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli potremmo dire che qui gesù ci sta dicendo se la qualità della vostra relazione con dio e di conseguenza con il vostro prossimo non supererà qualitativamente quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli nel regno di dio ci sta chiedendo una qualità maggiore un'adesione più profonda alla volontà di dio cerchiamo di capire scribi e farisei erano persone che volevano fare la volontà di dio volevano mettere in pratica la sua parola però purtroppo spesso si lasciavano andare ad una interpretazione riduttiva della sua parola è quell'atteggiamento tanto diffuso anche oggi tra molti cristiani che nasce da una lettura letteralista e legalista della parola di dio il cardinale ravasi faceva un esempio il decalogo dice non uccidere va bene basta che mi fermo alla lettera ho evitato di uccidere mi sento a posto il precetto dice non commettere adulterio va bene io non ho avuto rapporti sessuali con altre persone sposate sono a posto e quello spirito così caro anche a tanti cristiani che di solito quando si devono confessare reagiscono ripetendo il famoso ritornello ma io non bestemmio non ammazzo non rubo ma che male ho fatto ecco gesù ci chiede di andare più in profondità dobbiamo comprendere una cosa che noi possiamo vivere queste parole di gesù perché accogliendo lui accogliamo in noi la sua vita e la sua parola ci rende capaci di fare ciò che dice cioè noi aprendo il cuore allo spirito santo alla grazia diventiamo capaci di amare così di amare da dio questa è la meraviglia della vita cristiana poter vivere della sua stessa vita poter amare del suo stesso amore con il quale siamo amati a questo punto vediamo sinteticamente le prime quattro antitesi senza alcuna pretesa di esaustività che trattano temi quali l'omicidio l'adulterio il divorzio e il giuramento anzitutto il precetto non ucciderai che tanti penso che saltino a pie pari fermandosi a quella lettura letteralista che vi dicevo io non ho ucciso nessuno ma cosa dice gesù chiunque si adira con il proprio fratello stessa pena dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio pena maggiore e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna peggio ancora se le cose stanno così beh io penso che se potessimo scansionare raggi x storia e coscienza chissà che cimitero di uccisioni perché gesù qui ci sta dicendo che in fondo uccidere parte dal cuore dunque possiamo dire che si uccide l'altro non soltanto quando lo si elimina dalla faccia della terra ma lo si inizia ad uccidere quando lo si espelle dallo spazio del proprio cuore quando anche soltanto con le parole si cerca di eliminarlo quantomeno di abbatterne la dignità potremmo dire davvero che adirarsi insultare offendere denigrare calunniare è già un uccidere capiamo allora che qui siamo davanti alla radicalità dell'amore in questo caso del quinto comandamento ed è davvero un invito a rientrare tutti nel nostro cuore perché tante volte noi banalizziamo le offese le ferite che infliggiamo alle persone che abbiamo accanto tante volte più sono a noi vicine più ci sentiamo in diritto o nella posizione di poterle quasi usare come sacchi da box per sfogare le nostre frustrazioni ricordo un episodio molto toccante di un papà che era al parco con il figlio papà ormai anziano con una possibile insorgenza di demenza il figlio adulto il papà guardava la natura il figlio leggeva il giornale a un certo punto il papà chiese al figlio figlio mio cos'è quello è un passerotto papà dopo un po stessa domanda figlio mio cos'è quello è un passerotto terza volta figlio mio cos'è quello e il figlio inizia ad innervosirsi dopo la sesta volta la medesima domanda il figlio sbottò ma ti sei rincretinito te l'ho già detto che è un passero vecchio stordito il papà dopo tempo trasse un diario dalla tasca e lo diede al figlio era un diario datato il figlio iniziò a leggerlo a voce alta ero con mio figlio al parco e mi chiese per 21 volte papà che cos'è quello e io per 21 volte gli risposi figlio mio è un passerotto provando tenerezza per la sua innocenza e abbracciandolo ogni volta che me lo chiese addirittura Gesù rincara la dose dell'amore e dice non soltanto non adirarti ma addirittura se sai che qualcuno ce l'ha con te prima di presentarti all'altare vai a riconciliarti con lui cioè al di sopra di tutto cerca la comunione con gli altri cerca di costruire ponti di intessere relazioni nulla dio gradisce come il fatto che i suoi figli siano in concordia in comunione tra di loro la terza antitesi tocca il tema del ripudio del divorzio e Gesù dice avete inteso che fu detto chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio al tempo di Gesù infatti c'erano due scuole di pensiero che ammettevano la separazione l'una in casi estremi nel caso di tradimento l'uomo poteva dare l'atto del ripudio a sua moglie l'altra molto più lassista l'uomo per qualsiasi motivo fosse anche un piatto di pasta bruciato poteva lasciare sua moglie e darle il ripudio Gesù invece dice ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie eccetto il caso di unione illegittima la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio detto in termini semplici Gesù sta ricordando una verità essenziale che l'amore sponsale è per sempre l'annuncio meraviglioso che Gesù ci fa è che con lui e in lui è possibile amare del tutto e per sempre e anche vivere il matrimonio come via di santità un conto è che una persona non ce l'abbia fatta per motivi seri e spesso dolorosi un altro conto è pensare che sia impossibile amare per sempre riducendo il matrimonio a una sorta di contratto a tempo una convivenza che va finché la barca va no dio ci rende capaci di amare per sempre l'ultima antitesi tocca il tema del giuramento che dopo l'esilio di babilonia era divenuta un'abitudine quasi nel modo di parlare degli israeliti cioè per dare valore e forza ciò che si affermava si chiamava il cielo e la terra testimone si invocavano sciagure qualora quella parola non fosse stata autentica e via dicendo Gesù dice ai suoi discepoli non c'è bisogno che voi giuriate anzi non giurate affatto il vostro parlare sia sì sì no no il di più viene dal maligno insomma il signore ci sta dicendo che siamo chiamati ad essere asciutti autentici quello che dico è sì se no e no e non ho bisogno di fare nessun giurin giurello per convincerti chiediamo al signore che queste sue parole diventino davvero vita vissuta vita vissuta di chi ha incontrato il signore nella sua vita di chi lo sta seguendo e di chi nel seguirlo si lascia insegnare da lui la meravigliosa arte di amare che dio vi benedica pace e bene a tutti